Un'altra triste storia è accaduta a Cassino. Si tratta di un'imbarazzante storia d'amore fatta di gelosia, aggressioni ed eccesso di sostanze alcoliche. Protagonista una coppia di giovani fidanzati. Lui un ragazzo tranquillo che sotto l'effetto di bevande alcoliche si trasformava al punto da non saper gestire più le proprie emozioni. La fidanzata invece è la vittima. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una sera in labriola tra musica e tanto alcol. La coppia si incontra con altri amici poi tra un bicchiere ed un altro di alcolici e super alcolici si perde tra la folla della movida. Il ragazzo inebriato e poco lucido non trova la fidanzata, la contatta al cellulare, la raggiunge e preso dall'ira furente le si avventa contro e le morde la guancia. La giovane grida ma la musica ad alto volume purtroppo attutisce le sue richieste di aiuto. La ragazza spaventata dal fidanzato ha tentato poi la fuga trovando riparo nella sua auto ma lui dopo poco la raggiunge e si fa consegnare il telefonino. Lo restituirà solo dopo un'ora ma rotto e piegato in due. Non era la prima volta che il giovane mordeva la sua fidanzata e non era la prima volta che eccedeva con l'alcol. La giovane ha poi spiegato che c'erano state varie minacce di morte nei confronti della famiglia della vittima, ha aggredito anche il fratello di lei. La ragazza però si è fatta forza e ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto al commissariato di Cassino. Grazie alla determinazione della vittima che non si è nascosta dietro il muro del silenzio ma ha denunciato le violenze subite la polizia di stato ha potuto deferire l'aggressione alla competente autorità giudiziaria. Molto spesso infatti accade che le vittime di violenza si limitino a denunciare i fatti solo sui social network o ai mass media ma poi si rifiutano di sporgere querela impedendo così giuridicamente qualsiasi attività investigativa.